secondo le statistiche di youtube solo l'un per cento riguarda i miei video iscritto al canale mi aiuteresti molto se decidessi di iscriverti ora grazie allora siamo nel quartier generale dei supereroi c'è spider-man c'è hulk c'è flash c'è superman insomma ci sono tutti che controllano ovviamente non c'è da ridere controllano ovviamente l'attività criminale della città è il turno di superman pomeriggio caldissimo tocca a lui svolazzare in giro per i grattacieli e vedere come si comporta la gente la cittadinanza vola 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 a un certo punto sul terrazzo del palazzo dei supereroi guarda c'è wonder woman completamente nuda a gambe aperte che prende il sole la guarda un secondo e va via torna dopo 15 minuti ed è ancora lì nuda al che gli sale un'idea e dice ma io sono superman ho il dono della super velocità non siete bisogna andare in ferie anche solo una settimana no io zero proprio no no ragazzi non dovete capire che a questi livelli di streaming così intenso per tutti questi anni come vi ho già detto si entra in un meccanismo che diventa uno stile di vita e interrompere questo stile di vita non porta dei benefici mentali magari fisici anche ma non mentali no 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 sarei messo peggio perché penserei al fatto che non sto strimando no 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 è un mega è uno stile di vita ragazzi con questa dash mi ha fatto godere a richiede il nuovo overlay è pronto il nuovo overlay sta per arrivare vi ricordo anche ragazzi che c'è il nuovo alert da due sub giftate ora io non ora io non me merda forse aveva ronaldo a roma votiamo ronaldo se ci sta guardando ciao ronni a proposito di ronni dove cazzo è il gufo merda un po' che ho perso il gufo famos 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 dentro in cinque e pazzi carello grazie davvero di cuore grazie ragazzi grazie ripiassi io 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 e r3 1 s sottolineatura tre mesi ciao bello maiale d'oro a us a us grazie per il maiale d'oro grazie bello per i tre mesi c'è sion che si sta preoccupando si sta preoccupando saion stanno arrivando i mattacchioni ed è tornato anche ma io andiamo ma ce la può fare giulione ciao bello ciao giulione sei un eroe grazie mille tua madre cioè non la tua e qui c'è un problema e qui c'è un problema si tu tu che sei sdraiato sul tuo letto e stai prendendo la corrente dello scirocco da destra hai un abbonamento amazon prime cazzo allora digita prime in chat abbonati gratis al canalo forza punto esclamativo prima è gratis non vedi le pubblicità è gratis dai e che cambiamolo per lei oh capo sono proprio io ma io vado a cazzecchi e che poi lo esiterà lo esiterà con tanta ciapà seme ranchi di una gita e che poi e che poi lo esiterà lo esiterà con tanta ciapà fa seme può cercare di prenderlo ciao let's go ciao vice ciao bello benvenuto sei un eroe let's go si vola ragazzi si vola alto si vola verso i 7 e 8 dai che caldassa no raga io non sono un papa ragazzi no chiedo scusa non signor Marley salve signor Marley io 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 va bene urlo l'aspetto due mesi dai easy acchiappati sto easy va là può fare una wish list ma io non ho niente che mi serve ho sentito quella che parla al corsivo mi sei incastrato una pallina della ping pong gingola ma come cazzo parlo ma che cazzo di problemi ha ma che perché parla così ma non possono chiamarle un logopedista ma perché parla così figa ma che problemi ha ma gliela mando io un logopedista figa mi sale il crimine cioè l'ho sentito un secondo eeeh merda vai 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 scusami cazzo merda non riesco a aggropparti vai vai se mi ricapita una cosa del genere di nuovo potrei veramente farvi chiudere le stream no no la prego Marza la prego Marza la prego la prego no eh ragazzi no no eh ragazzi no eh regà bravo bravo easy siamo tutti tra dentro ma è ovvio guadagna 20.000 euro al mese dilettante no sto scherzando andiamo ciao Lollo è lecca eh lo sai quando un po' intorsi quando c'ha ragione sta nella sua cristian twitch77 grazie per i 25 mesi caro grazie di cuore era ironia dai quattro ere glaciali ti prendo un calippo bello gelato e te lo infilo nel culo così lo senti il ghiaccio glaciale zio ciccio let's go let's go let's go ma guarda che arriva che oro bravo secondo 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 peccato madonna sei stato bravissimo bravo mamma mia bravissima secondo raga più di così non potevo fare peccato peccato che non vale un cazzo peccato che non vale un cazzo esatto ma gli hai preso la testa gli hai cagato in testa si 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 grazie grazie vi hai proprio grazie del sergio un bel moschio le dice mi piace perché un bel uomo è giusto esatto 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 e io ti dico ma perché ciao bello ti sei levato la barba porca puttana e perché facevi un sesso che era che era clamoroso e ma si la irritavo la irritava in che senso no la mia barba mia moglie andiamo mettiamo tutto dritto intanto guarda che puoi anche grabare quella troia di tua mamma invece che stare qua a rompermi il cazzo tutto giù andiamo guys che facciamo ed è geniale cioè nel senso il fatto che lui abbia aiutato così tanto perché noi comunque vabbè io faccio fortnite che adesso oramai dopo tutti questi anni oh arrivo subito oh fede gran pazzo io io oh 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 fede grande pazzo scusi io canto le mie canzoncine non la voglio disturbare stavo molto divertendo la ringrazio e quindi ma santo il dio ma quello lì è un botte il cazzo ma vai a fare inco ma che cosa cazzo sta succedendo buongiorno buongiorno mazzi grazie dei due perché le mie live devono sempre essere fatte in questo modo robicchia dai dai non c'è un minimo di tolleranza a Grazie.